Sesta giornata Sunday Cup, Siviglia contro Baku, risultato 0 a 0. Riccardo anticipa bene, Falanga centralmente scende, poi una sedia di Bling ancora si allarga, Morvillo fa buona guardia, mette il piede in avanti, Manu Gattarzo, favorisce l'anticipo dei suoi, la progressione offensiva, poi guadagna un calcio d'angolo. Il 99 è d'agosto? No. Siviglia li sai tu? Sì sì sì. Mi serve solo il portiere. Antonio mi prendi anche quello là per favore, quello bianco? No, la menzo. Sul pallone Federico Basile, alza, esce bene il portiere. Antonio Basile adesso, dribbling, Falanga, al centro per Riccardo, poi Pagnozzi, sbaglia il passaggio, poi serve ancora Antonio Basile, il tiro di Basile, sbilenco. Sì, entra, ma non è un movimento del corpo, non è che sta così, ha fatto accolto. Ripartono i bagù, Cuzzo, alza il pallone a cercare l'Iccardo, Pagnozzi fa buona guardia, serve Morvillo. Siamo al movimento congruo del corpo. Movimento congruo del corpo. Manu Gottardo, il tiro di Gottardo, finisce di poco a lato, ma è stata ottima la progressione effettiva del Siviglia con terminale massimo Manu Gottardo, che allunga bene la gamba, permette che il pallone... Finisce in fallo laterale. L'hai stoppata e poi terminata in fallo laterale, e poi l'hai ripresa. C'è anche la prova a video. C'è anche la videoprova? Ho la prova a TV, la prova a TV. Ho la prova a TV da prova. Falanga mette al centro, palla troppo lunga, il pallone finisce sul fondo. Ancora Pagnozzi. Palla alzata su Antonio Basile. Lasciamo stare il pallone, eh, di Antonio. Cozzo, Morvillo. Falanga, buono la finta di corpo. Poi Gennaro Cozzo, serve Liccardo. Liccardo contro Morvillo. Doppio passo, Morvillo. Manda il pallone sul fondo. Fisico 1, doppio passo 0. Fisico 1, doppio passo 0. Federico Basile, direi davanti alle palle. Verde. Guadagna il fallo laterale. Manu Cottardo. In mezzo a due, perde il pallone in un rimpallo. Sul pallone ancora Liccardo. serve il compagno di squadra. Poi ancora Liccardo guadagna dopo un rimpallo il possesso palla. E poi è un gran gol di Liccardo, velocissimo. Che gran gol di Liccardo. Finta, finta 1. Bostiere 0. Resto 0. Resto 0. Basile. Serve Basile. Basile dove ha Basile? Si serve. Il tiro. Il pallone finisce in calcio d'angolo. Chiudiamo qui il collegamento.